Leadership e senza demagogia Non posso che essere fiducioso, è ora di pensare al bene del paese così ieri il Presidente della Repubblica Napolitano su un mandato conferito a Pierluigi Guiazzani per la formazione del nuovo governo il Capo dello Stato è Tedesco Gauch le vittime del recidio nazista, l'inviata Simona Sala Sopre il conflitto di questo mandato è mosso il Capo dello Stato con il Presidente tedesco Gauch a Sant'Anna di Stazema pellegrinato di riconciliazione dove nei 44 nazisti uccidarono 560 vittime di 200 Grazie a tutti!